Noi sicuramente siamo inciuci di tatticismo che servono solamente a difendere le poltrone, non ne abbiamo fatti e non ne faremo mai, però vogliamo vincere, è la cifra di Fratelli d'Italia, non ci interessa semplicemente fare testimonianza, noi vogliamo mandare a casa questo governo e vogliamo governare l'Italia secondo idee che possano essere fondate sull'interesse degli italiani. Quindi ovviamente lavoriamo per ricostruire, però non ricostruiamo a ogni costo. Se ci si chiede il tatticismo di sostenere un giorno Renzi e un giorno andargli contro di cose che abbiamo visto da fare delle volte agli altri partiti, beh questo non siamo disposti a farlo.